La storia di un periodo buio del nostro paese. La storia di Alberto, figlio del gioielliere Pierluigi Torreggiani, ucciso in una sparatoria il 16 febbraio del 1979 dai proletari armati per il comunismo. Formazione clandestina a cui apparteneva Cesare Battisti, riconosciuto colpevole dai tribunali italiani, fuggito in Brasile come rifugiato politico e recentemente arrestato dopo una lunga latitanza. Alberto, dall'età di 15 anni, è costretto sulla sedia a rotelle proprio per i danni subiti durante la sparatoria. A 40 anni da quel giorno maledetto decide di raccontarsi. Venerdì alle 21 sarà ospite a Solviate Arno in biblioteca. Qui presenterà il suo libro Ero in guerra ma non lo sapevo. È una bella serata di condivisione, di ricordo. Avremo l'onore di ascoltare la testimonianza di Alberto Torreggiani. È un nome che è tornato con prepotenza nella cronaca di tutti i giorni dopo l'arresto di Cesare Battisti. Condivideremo la sua esperienza. Presenterà il suo libro che si chiama Ero in guerra non lo sapevo. Penso che sia una bella serata non solo per i giovani solbiatesi che hanno pochi ricordi di quel periodo buio degli anni di piombo ma anche per tutta la comunità che invitiamo a partecipare assiduamente. La serata ingresso libero è organizzata dall'Associazione dei Giovani Solbiatesi 6. Un'associazione non a scopo di lucro. Nel nostro tempo libero ci piace organizzare eventi da quelli culturali a quelli sportivi con tutta la comunità solbiatese. Oramai ci reputiamo una realtà solida perché sono quattro anni che siamo stabili sul territorio solbiatese. Dopo aver fatto per tre anni consecutivi un festival musicale abbiamo fatto per quattro anni di fila un torneo all'oratorio di calcio e quest'anno proveremo anche l'avventura col basket. E soprattutto nel tempo libero con le nostre forze ma anche i nostri limiti organizziamo degli eventi culturali.